Secondo giorno della Global Finance Conference qui a Treviso, che si concluderà con la sua area aperta al pubblico alla chiesa di Santa Caterina, dove converseranno il premio Nobel Paul Krugman e i docenti universitari internazionali Samuel Vignè e Gianni De Nicolò, insieme a Francesco Bigoriti della FID e Luca Ramponi, vice direttore generale della BCC. Molto interessanti gli interventi che si sono succeduti in questi due giorni. Abbiamo avvicinato alcuni dei protagonisti sui temi di maggior rilievo, dai tassi di interesse alla deglobalizzazione e ai possibili scenari in relazione al conflitto russo-ucraino. La guerra in Ucraina ha destabilizzato l'economia e la politica mondiali. Quali scenari si possono prefigurare qualora vincesse l'Ucraina, nel caso vincesse la Russia o qualora si verificasse un congelamento del conflitto? Nessuno di questi scenari è buono. Questa è una guerra che viene combattuta sulle migliori terre al mondo per le coltivazioni agricole. Oltre a questo c'è lo shock per la mancanza di gas russo che già abbiamo vissuto, ma che può continuare. Non voglio neanche pensare a cosa potrebbe accadere, sapete da che parte sto, se dovesse essere la Russia a vincere. Ma se l'Ucraina vince, il prossimo passo sarà il caos in Russia. E questo è il nostro imprevedibile mondo. A seguito della pandemia e dopo della guerra in Ucraina, è emerso nel dibattito internazionale la possibilità di un declino della globalizzazione dal punto di vista economico. Lei che ne pensa? Io penso che la deglobalizzazione è ancora un processo da definire e ancora incerto, perché le connessioni economiche internazionali, soprattutto tra le democrazie e i sistemi cosiddetti autocratici, sono ancora molto forti, pensiamo alla Cina. Quindi pensare a una divisione del mondo, come dire, dal punto di vista sia commerciale che finanziario, mi sembra abbastanza prematuro. La finanza, che sembra un retaggio appartenente alla realtà dei macrosistemi, che ruolo gioca invece nella vita quotidiana di ogni cittadino? Oggi vediamo l'importanza delle tassi di interesse della Banca Centrale sulla vita delle persone. Mentre le persone in qualche modo comprendono l'inflazione, è difficile per molti capire perché i loro mutui ora sono più costosi. Come si può capire, la finanza, la macroeconomia e la geopolitica non sono poi così distanti dal nostro vivere quotidiano. Anzi, spesso lo dettano. Lavinia Cavalett per la Global Finance Conference. Lavinia Cavalett per la Global Finance Conference.